Musica Ciao a tutti sono Spiega98 e benvenuti in una nuova puntata di The Dropper 2 C'eravamo fermati al livello 4 se non sbaglio C'è poco da sbagliare Quindi iniziamo subito con il livello 4 Simboli Cosa devo fare? Devo... Non capisco, non capisco Fattate che si stiamo un attimo al microfono Ok, così sembra meglio Forse devo vedere i simboli che ci sono Questo l'ho visto se non sbaglio Adesso, adesso Ah ecco, memorizza i simboli, è impossibile Va bene, va bene, ci provo di nuovo Quello Cancelletto là Cioè io dico cancelletto ma di solito Cioè sicuramente là Non è, non è Oh, chunk di merda Ok no Sei tu il tasto che devo calcare Click Pick Ok, basta Ce la possiamo fare Allora Oddio Abbiamo detto questo Poi qua ci sono problemi di lag Bah, di lag, scusate, di chunk Non è così semplice Quindi Tu 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 credo No Allora, quella a fianco Allora, fammi rivedere Sì, ok Stavolta ce la faccio Per lo meno cercherò di ricordarla Se magari caricano c'è anche a dovere Allora, tu 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 No, sì Boh Sì La Eh, tu Tu, 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 tu Lo so che sì, tu Sì No, no, no Che fai? Ce l'ho fatta Ehm Wood Ho capito che devo sal... Ah, ok, c'è un buco là Quindi devo calcare E non prenderlo, naturalmente Aia Allora, allora, allora Cosa si può fare Dimentimela vuoi, cosa si può fare Però non fatemi sentire Adesso dovrei essere a posto Ma se faccio così, ok Aiuto Allora, allora, allora Aspettate, c'è un microfono Ok Così Oh, merda Stavolta dovrei essere a posto Dove andare un po' più indietro Aia Aia No, ok Così And what The fuck Dove, 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 dove Aia No Ah, ok Cioè Ma ora Ah, ok, sono qui Perfetto Aia Cioè, perfetto Perfetto un caspio Di nulla Così Solo che non trovo il diamante Però no Ah, ok No Aia Quindi Così Sì No Caccia No 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 Ok, sono morto No 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 Mi sto stancando Mi sa che lo faccio No 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 Sì E quando dovrebbe esserci il diamante Ricordo che un diamante è sempre per sempre Anche se non è sempre Ma porca Ok Devo trovarlo perché mi sembra una cosa Basta Aspettate Ma fatemi controllare Che Magari mi sta a poter E anche quando ne sono accorto Ok No Non c'è niente Va bene Ci riprovo Off camera E poi Vi dico Ok Dopo un crash di minecraft Ci sono riuscito Oh Sti chunk Ok Allora sappiamo che funziona Lo stu zucchetto Niente Prendiamo il diamante Che è per sempre Lo mettiamo qui Solo che ora non so come scendere La Ok ok Ce la puoi fare Ce la puoi fare Sì In effetti È stato meglio così Va bene ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ora dobbiamo Trovare il pulsante Eccolo qui Ok Vai Ora abbiamo fatto anche il 4 Andiamo nel quinto Se continuiamo così Riusciamo a fare al massimo 6 episodi Anzi anche troppo Albero Va bene 3 2 1 Quanto ci avrà messo A farlo aiuto 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 Non so neanche dove devo andare Sinceramente Credo ci siano di quelle Oddio no Ho il baffo Io ne ho infine al mezzo Dai Sì come ci arrivo in quell'acqua Oddio Ce la posso fare però No Non ce la farò mai Come ci arrivo in quell'acqua Devo andare tutta a sinistra A sinistra Non troppo non troppo Ok sono detto troppo E se magari riesco a saltare Nella chioma dell'albero Finto albero Naturalmente No Non c'è l'acqua qui Difficilissimo Spiegelando Spiegelando Toto fell from a high blaze Ci prendete conto Che ho fatto più fails In due puntate Anzi più fails In quattro livelli Che in tutti e sedici Cioè In tutti e sedici Non lo si I livelli Di the dropper No Da Non è giusto Non è giusto Mi spuntano alberi dal nulla Rami dal nulla Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Facile.it 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 Non funziona Li denuncio Vai che ce la fai Questa puntata la chiamo Facile.it No È impossibile Va bene Ci riprovo Un'altra volta E poi la faccio in off camera Perché non voglio far durare Troppo la puntata Ohia Va bene Ci riprovo da solo Sto tornando Arrivederci Eccoci 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 Sì Ok dopo un altro crash Ce l'abbiamo fatta Non so perché sta crashando così tanto Aspettate Ah ho capito Ok Avvo l'antivirus Sì ebbene sì Ho installato un antivirus Anche se non l'ho mai usato in vita mia E ora ne sto pagando le conseguenze Infatti Adesso lo disistono Torno subito Ok eccoci qua Ci facciamo ascendere di un sacco di FPS Avvo notato infatti Ok ora niente più crash Seguo la freccia Che mi porta Un sacco di fiori grandi C'è un fiore blu C'è un albero gigante C'è un nido di uccello C'è una Una come si chiama Una zucca Ah eccolo qui Il pulsante nero Dà un effetto di resistenza Di salto per qualche secondo Trovo il diamante nascosto in alto Quella cosa gialla Credo che sia il diamante Credo che sia il posto dove Aiuto 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 Sì 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 No Non è il diamante però Io seguo le zucche No non c'è niente Guarda una zucca Ah sei molto spiritoso Va bene dai seguiamo le zucche No No qua è impossibile Ahia ahia No ce l'ho fatta Una ragnateina Che io Senza far apposta Alla salto Cioè salto Oddio dove sto salendo In culo alla luna No 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 è qua di certo Fammi dare un'occhiata Non lo vedo No 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 Eppure mi è sembrato Prima di vedere Delle cose Quando son saltato Non quando son saltato Quando son caduto Dai Rie andiamo dai 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 Non ci perdiamo d'animo No Non lo vedo Non lo vedo Ahia C'è una casetta qui Magari là dentro E' un ramo? Si è un ramo Vaffan cuffia Non ti vaffanculo Niente non lo trovo Non lo trovo Non posso saltare così tanti diamanti Eppure sempre la sensazione Che mi sta prendendo per il culo Siamo sicuri che c'è Il diamante Ma si Perché mi sembra di averle vista Le due casse Le due chest Tranquilli Non la faccio la battutaccia Dall'altra volta Mi son pentito E' un parkour Sì Ora muoio Spero di raspanare in un posto normale Ok Niente non lo vedo Fammi dare un'occhiata Un'occhiata Aia Eppure mi sembra che stanno che quel nido sia messo lì per caso A meno che non sia Non faccia parte del tipo dello scenario Sai c'è un albero E c'è anche un nido Va bene Ma noi cerchiamo 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 L'ho visto Prima Aia Per chi non lo sapesse Per sporgersi così tanto Senza cadere Basta tenere premuto shift E io voglio tornare dove c'era quel cartello Una zucca Perché le zucche sono l'unica cosa che non trovi In albero No Maledete ragnatele Maledete ragnatele Ok 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 Spiegherò un dato a versione scimmia Arrampicato in un albero Vi saluta Perché siamo arrivati già A 16 minuti se non sbaglio Quindi niente Come al solito Mi trovate su Twitter Google Plus Sul mio sito Spiegherò un dato Punto X10 Punto MX Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete E niente Il video è finito Ciao a tutti